bene amici che spettacolo ovviamente voi in questo momento siete filtrati dal mio microfono dal vostro altoparlante ma vi posso dire che guardare un film così in Dolby Atmos con i surround posteriori è una figata ed era davvero tanto tempo che non mi gasavo per un prodotto audio che va a risolvere un'esigenza di tanti e adesso non avete più la scusa di dire non metto un impianto con i surround posteriori perché non riesco a portare il segnale non riesco a portare alimentazione perché impianti con casse wireless ci sono ma impianti con casse wireless anche per l'alimentazione penso di no penso che questo di Yamaha sia il primo e allora vi faccio vedere come questi satelliti posteriore suonino bene e facciano tutta la differenza del mondo magari adesso abbassiamo un un attimino perché sono piccoli portatili alimentati a batteria e hanno una duplice funzione ma adesso li lascio qua tra l'altro figata poterli spostare anche in base alla conformazione di casa vostra magari direttamente sul divano su una mensola di fianco poi ovviamente il posizionamento preciso 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 da audiofilo sarebbe un pochino più indietro ma vi assicuro che già mettendoli magari qua nei pressi del punto di ascolto l'audio cambia tantissimo adesso facciamo un altro paio di prove per capire la qualità trailer dolby atmos volume al 50 per cento perché si può andare a comandare il tutto anche da smartphone ma non solo il volume bensì anche il livello del subwoofer il livello dei surround così da settarli anche in base alla posizione e sentite anche a volumi veramente alti pressione sonora importante subwoofer da 100 watt con cono da 16 ovviamente wireless anche lui lui però va collegato all'alimentazione vabbè dopo ok davvero peccato che non riesca a farvi sentire proprio tutta la potenza dei bassi perché dicevo il sub lavora benissimo la soundbar di suo ha dentro due altoparlanti da 30 watt per il canale destro e sinistro agli estremi una soundbar abbastanza lunga quindi una bella scena stereofonica ovviamente poi arricchita dai surround poi a due altoparlanti rivolti verso l'alto per andare tramite rimbalzi a creare l'atmosfera e poi a due woofer l'altra cosa interessante che anche smart per esempio alex spegni giro video e come avete visto alexa non è solamente per alex riproduci musica pop la stazione top it's oggi radio gratuita da amazon music ecco ma adesso il volume un pochino alto lo abbasso quindi non solo per la riproduzione dell'audio musicale e anche qua la cosa bella è che può essere riprodotto in stereo utilizzando solo soundbar e subwoofer oppure andando attivare anche il surround con la musica tutto questo è possibile farlo sia dall'applicazione sia dal telecomando che è fatto bene ai comandi che servono ma abbasso un attimo anzi facciamo così alex stop perché prima vi parlo degli ingressi posteriori ottico per l'audio ottico hdmi in ingresso e uscita i arc quindi col telecomando della televisione se lo collegherete in hdmi con lì arc alla tv potrete comandare tranquillamente anche il volume della soundbar rete ovviamente anche il wifi dual band e poi una usb ma solamente per l'aggiornamento software che in realtà gli arriva via otta dall'applicazione si può tranquillamente aggiornare a me ne è già arrivato uno qua sopra i comandi sono per cambiare la sorgente di ingresso accendi spegni per attivare a lei con il pulsante quindi senza il comando vocale per metterlo in muto per motivi di privacy e poi i volume su e giù ma vi dicevo del telecomando che mi è piaciuto perché quasi possono settare gli ingressi quasi possono settare le modalità audio stereo surround modalità film modalità game oppure far suonare tutti gli altoparlanti e poi clear voice per aumentare le frequenze medie e quindi migliorare la percezione della voce e poi bass extender per migliorare le frequenze basse bello che si può regolare anche da telecomando il livello del subwoofer rispetto al livello generale e qua vedete c'è un led che ci dice a che livello siamo ma anche i livelli dei surround si possono regolare vedete qua posso definire se più o meno il destro e il sinistro questo è molto molto comodo a volte ci sono dei film con dei bassi un po' preponderanti magari gli effetti surround un po' bassi e andare a settarlo finemente al telecomando è veramente comodo ovviamente essendo smart è compatibile anche con spotify connect e si può andare tranquillamente a riprodurre la musica mamma mia scusate facendola partire dall'applicazione di spotify ma vi faccio vedere anche che dall'applicazione di amaha si può andare a comandare tidal a settare amazon a e aggiungere anche degli altri servizi ma il valore aggiunto di questo speaker surround è anche un altro e secondo me è fantastico cioè la possibilità di farlo diventare anche uno speaker bluetooth portatile che voi potete mettere che ne so qua sulla vostra mensola lo potete portare in bagno perché se schiacciate questo pulsantino vedete lui switcha tra fare il sound round e fare la cassa bluetooth basta schiacciare un attimo guardate voilà si è accesa la spia blu si è collegato al mio smartphone via bluetooth qui adesso il collegamento è diretto smartphone cassa come qualsiasi cassa bluetooth e se faccio partire la musica sentirete come suona lui quindi in questo momento tutto il resto è spento sta suonando lui e devo dire anche in maniera buona ovviamente non possiamo pretendere dei bassi incredibili e la figata vedete che mi posso spostare venire qua in bagno la mattina farmi la barba la barba la barba la barba la barba con uno speaker bluetooth che ripeto anche una buona qualità dell'audio sentiti bassi ci sono ovvio non fa miracoli perché non è grandissima ma funziona bene si può anche qui attivare il clear voice che va a enfatizzare le medie frequenze si può ovviamente mettere in play, mettere in pausa la musica e una volta che abbiamo finito di lavarci, di fare quello che vogliamo, oppure si può usare come speaker per ascoltare la musica in cucina, basta rimetterlo al suo posto, schiacciare questo pulsantino e torna a far parte dell'impianto surround. Quanto dura la batteria? Allora, prima di tutto vi faccio vedere le basette che sono secondo me studiate benissimo, perché qua sotto il contatto è continuo, quindi la possiamo mettere in qualsiasi posizione, così, 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 e si carica. La basetta è un optional, volendo si può caricare semplicemente con una tipo C collegata qua. Circa tre ore per la carica completa, circa dieci ore di utilizzo in modalità surround, 12 ore in modalità speaker bluetooth. E questa facilità e questa versatilità fanno tutta la differenza del mondo rispetto a quegli impianti che hanno sì gli speaker posteriori wireless, ma wireless per l'audio, non anche per l'alimentazione e spesso magari non si trova un cavo di alimentazione, una presa di correnti vicine, poi a che chiave a vista, che palle. Qua si prendono, si appoggiano qua, si ricaricano, poi si prendono, si ascolta la musica, oppure si utilizza come surround. Direi geniale. E oltre al fatto che è smart, che si sente veramente molto molto bene tutta la gamma di frequenza, è difficile, ripeto questa cosa, farvela passare perché il mio microfono, i vostri atto parlanti, sono quello che sono, ma è molto coinvolgente. Io a casa ho un impianto 5.1 sempre con un amplificatore Yamaha perché sono molto affezionato al sound che è molto caldo, molto pieno, insomma ha una qualità rispetto a quello che costa veramente elevatissima. Beh, questo sistema non dico che non ha nulla a che invidiare, ovviamente il mio ha una potenza diversa, un sub con un cono molto più grande, ma dipende anche dall'ambiente dove lo mettete. In sale, anche medio-grandi, questo impianto suona benissimo. E a tutto questo va aggiunto che i satelliti, quindi i surround, sono anche i P67, quindi quando lo prenderete lo porterete in bagno, volendo lo potrete anche mettere dentro la doccia quando la mattina magari vi lavate. Tutto questo quanto costa? Non poco, ma vi dicevo c'è tanta qualità e soprattutto tanta versatilità, 799€ soundbar con subwoofer, potete aggiungere anche solo uno speaker surround posteriore, io ve ne consiglio due perché avete un avvolgimento dell'audio, soprattutto quando usate audio Dolby Atmos, che è tutta un'altra cosa, 150€ a speaker. Mi sembra che fino alla metà di febbraio ci sia una promozione, un cashback di 170€ per chi compra tutto il kit che veramente mi è piaciuto tanto. Versatilità, marcia in più, qualità dell'audio, la miglior soundbar provata fino a oggi. Brava Yamaha. Ciao! Grazie a tutti.